A Porta Palazzo, dalla parte del vicolo dei Molassi, che un tempo era un canale che fu poi interrato nei primi decenni dell'Ottocento, pare che ci fosse una portinaia, la portinaia di uno stabile, la portiera, come si dice qui in Piemonte, un po' curiosa. Bisognava stare molto attenti a non farsi scorgere da questa portinaia perché Pettegola spiava e riferiva, a volte anche ciò che non aveva visto, la portiera di i Molass.